Buone notizie dal reparto Covid dell'ospedale di Agropoli, dimessa ieri sera a Guazzo Rosanna, di 58 anni, originaria di Castel San Lorenzo, ma residente nel comune di Felitto. Rosanna, operatrice sanitaria dell'ospedale di Roccadaspide, è stata ricoverata nel reparto di subintensiva lo scorso 15 gennaio a seguito di un'attacca che ha riscontrato la polmonite interstiziale. Inmediato il ricovero per le sue condizioni di salute. La donna non ha nessuna patologia associata, ma nonostante ciò ha trascorso 18 giorni in subintensiva. Ieri, con gli occhi pieni di felicità, ha ringraziato quanti tra operatori sanitari, medici e paramedici in questi lunghi 18 giorni le hanno prestato assistenza nel reparto speciale. La grazie a voi, tutta l'equipe straordinaria, efficiente al massimo, recuperata moltissimo grazie a tutta l'equipe, medici, paramedici, infermieri, tutti, tutti, nessuno escluso. Fa piacere a tutti noi, vi ringraziamo. Mi sono sentita una di voi, famiglia, tutti bravissimi, tutti, nessuno escluso. Grazie, eccezionali, eccezionali. Non ci sono parole, io non ho parole come le scrivo. Grazie a tutti.